Intervenire subito in somma urgenza e questo l'obiettivo della regione Abruzzo che questa mattina con il consigliere regionale Luciano Monticelli e l'assessore Dino Pepe ha effettuato un sopralluogo assieme al Geno Civile per verificare le condizioni della balconata del belvedere storico di Silvi. Ieri una parte della passeggiata panoramica a causa delle forti piogge e dell'erosione del terreno sottostante ha ceduto determinando una situazione di grave pericolo. Il cedimento strutturale del belvedere potrebbe nascondere problemi ben più gravi rispetto a quanto si possa osservare allo stato attuale per questo saranno effettuati ulteriori accertamenti di interventi oltre alla messa in sicurezza nel breve termine in una zona dove tra l'altro insistono numerose abitazioni. Gli interventi assicurato Monticelli saranno allargati anche ad altre zone del triangolo che comprende Pineto, Atri e Silvi epicentro dell'ondata di maltempo di ieri che ha messo in ginocchio buona parte della costa abruzzese bloccando sia il trasporto ferroviario che quello stradale. Le maggiori criticità infatti si sono verificate proprio nella zona sud della provincia terramana al confine con quella pescarese dove si è temuto lo straripamento del torrente piomba e dove ci sono state frane e smottamenti oltre a numerosi allagamenti e sgomberi di abitazioni invase dall'acqua o isolate.